ciao sono alberto benvenuti nella giornata dedicata all'open house organizzata dall'agenzia gambelotti real estate oggi una bella giornata l'ideale per questo tipo di evento abbiamo organizzato sei appuntamenti che si svolgeranno nella giornata di oggi dalle 14 30 alle 18 al termine della giornata vedremo com'è andata andiamo bene la giornata è terminata si è appena conclusa la visita con l'ultimo cliente su sei appuntamenti fissati ben quattro sono disposti a chiudere subito la trattativa beh che dire non potevamo aspettarci di meglio ciao buongiorno io mi chiamo andrea mainardi ho 26 anni e mi occupo come impiegato per un'agenzia di assicurazioni qua ad urbino è stato il mio primo open house a cui ho partecipato non sapevo cosa aspettarmi ma è stato organizzato molto bene gli inquilini all'interno dell'appartamento sono stati molto disponibili ho potuto ammirare toccare con mano finalmente la casa che desideravo si è comportato molto bene mi ha spiegato ogni singolo ogni singola stanza della casa mostrandomi appunto ogni angolo e mostrandomi anche i pregi della casa molto disponibile molto chiara nelle informazioni molto puntuale anche sugli appuntamenti che ci siamo prefissati sia per vedere la casa che per discuterne anche sul contratto pre contratto assolutamente sì sia appunto per la professionalità che puntualità e soprattutto anche per quello che offre l'agenzia ciao 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 ciao